Riccardo, qual'era il tuo migliore scelto oggi? Per mettere i miei abbracci, perché facciamo un giorno per ogni giorno, tomorrow ci sarà un po' più vinto e io sarò la mia scelta. Pianluigi, qual'era il tuo migliore scelto oggi? Il migliore scelto? Per me raccogliare in Riccardo. E' stata una grande idea, ho davvero piaciuto il giorno. Riccardo, qual'era il tuo migliore scelto oggi? Non ho avuto nessuna acqua di veggie, prima di rinforzare sul volo. E' stato un po' più. Pianluigi, qual'era il tuo migliore scelto oggi? Penso che l'attacco. E' stato un po' di rinforzare per rinforzare il volo, quindi perdoniamo la posizione contro Riccardo. Riccardo, chi è il volo per battere in tuo flitta? E' stato un po' di rinforzare, perché siamo gli amici e abbiamo lavorato insieme. E' stato un po' di rinforzare. Pianluigi, chi è il volo per battere in tuo flitta? E' stato un po' di rinforzare. E' stato un po' di rinforzare. Perché non abbiamo lavorato uno giorno, quindi una grande soddisfazione sarebbe di battere qualcuno. Riccardo, qual'è il tuo obiettivo per il morgeno? Tutto il stesso volo per il giorno. Per me, per la nostra posizione è che siamo tornati a tre voti. Non per molti secondi. Abbiamo perduto per qualche seconda. Quindi siamo più o meno satisfied con la trattazione. E' stato un po' di rinforzare. E' stato un po' di rinforzare.